Stanno imparando a montare tende, ad effettuare comunicazioni radio, a gestire una segreteria, a sanificare i luoghi comuni. Organizzato dal CB Club Mattei di Fano e dalla Federazione Italiana Ricce Trasmissione, al Codma di Rosciano e in altre tre strutture cittadine, si svolgerà fino a domenica un training di protezione civile, cioè un corso di formazione teorica e pratica, a cui stanno partecipando 220 volontari provenienti da tutte le regioni d'Italia. Suddivisi in cinque gruppi, logistica, cucina, comunicazioni radio, unità di crisi e segreteria, si stanno formando e specializzando per la gestione di un campo sfollati da 250 persone. Tutto questo serve a far sì che se dovesse essere necessario impiantare un campo da 250 sfollati, noi siamo in grado di gestirlo, ma non per una settimana, ma nel tempo, circa tre o quattro mesi, quello che necessita. Quindi le figure ci sono per poterlo gestire, non ci sono problemi, però le figure sono poche. Cioè io posso lasciare il lavoro per una settimana e il datore di lavoro viene rimborsato, forse due nell'arco di quattro mesi, ma per dare la continuità nel tempo ci vogliono persone formate su tutti i campi. Importante è anche imparare la logistica e quindi l'insieme delle attività tecniche e organizzative. I ragazzi che sono in aula apprendono con le slide preparate dal nostro formatore Daniele come allestire un campo di assistenza alla popolazione per 250 persone. Per cui qui la vedono proiettata, vanno ad analizzare anche le tecniche di allestimento delle tende, degli impianti elettrici che poi dopo svilupperanno nelle sessioni pratiche. In caso di emergenze queste persone saranno pronte a partire ad aiutare le persone in difficoltà.